Grazie. Non apprendetevela con me. All'inferno so benissimo che non si vende. Quel che voglio dire è quel che ho in testa. Dipingere i piatti, dipingere i desideri sui pensieri che volano via, prima che moria e pensare con l'impostro. 35 anni con un corpo estraneo, 35 anni con i capelli denti, 35 anni con un pantoccio. Ma io non sono Marilyn, io sono Norma Jainbeck. Perché la mia anima fa vorrore. Come gli occhi delle rane sull'ora di fossi.